Ah, stai già arrivando? Sì, dai, ti aspetto qua. Muoviti però, eh. Va bene. Questi maledetti scioperi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ti serve un passaggio? No, no, grazie. E tanto che aspetti? No, cioè, sì, ma non saranno qui prima di un quarto d'ora. Dai, sei sicura che non vuoi un passaggio? Mi dispiacerebbe lasciarti qua tutta sola ad aspettare. Va bene. no, no, no. No, no. Ciao. Ciao a tutti. Ehi. Abiti lontano? No, saranno dieci minuti in macchina Conosci Romera? Sì, 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 certo Ma che cosa ci facevi lì? Studi? Sì, mi sono trovata con degli amici per studiare E chi è che doveva venirti a prendere? Mia madre, ma aveva un impegno, quindi dovevo aspettarla E perché non hai un ragazzo che poteva venirti a prendere? No, non ce l'ho il ragazzo Ah, non ce l'hai? Sarà una tua scelta? Una ragazza carina come te? No, no, non sono mica la modella Perché dici così? Potresti esserlo Nonostante i pantaloni Si vede che hai delle belle gambe E un viso molto sexy Grazie Sai, io ho delle conoscenze in questo campo Secondo me tu hai le carte giuste per farti un bel po' di soldi Magari potresti pagarti anche gli studi Io no A meno che quei vestiti non servono per nascondere delle imperfezioni No, no Non devi essere imbarazzata Le modelle è normale che si facciano vedere in intimo o in bikini? Beh, magari un'altra volta Ma non dovevi girare di là? No, conosco una scorciatoia Ma arriveremo prima da questa parte Fidati Ma cavolo, mi sono dimenticato che dovevo fare una telefonata La costa un attimo La costa un attimo La costa un attimo La costa un attimo La costa un'attimo La costa un attimo Grazie Pionto. 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 Pionto.